Aule ancora vuote questa mattina al plesso scaturro dell'Istituto Comprensivo Dante Lighieri, operai a lavoro alla scuola secondaria di primo grado per un intervento all'impianto elettrico danneggiato dalla pioggia dei giorni scorsi. Verosimilmente domani le lezioni potranno riprendere all'Istituto di Via Santa Caterina, ma si dovrà attendere il pomeriggio per sapere se i lavori saranno ultimati o meno. In pratica lunedì scorso durante le lezioni pomeridiane di musica, nebbe il mezzo di un'ondata di maltempo, la pioggia a causa di un'infiltrazione è giunta al quadro elettrico, generando una forte puzza di bruciato oltre alla mancanza di illuminazione. Per questioni di sicurezza il dirigente Pippo Graffeo è stato dunque costretto a sospendere le lezioni nell'edificio ed avviare dei lavori urgenti di risoluzione del problema. Intervenuta già martedì scorso una ditta specializzata e incaricata dal Comune, che sta provvedendo a mettere in sicurezza l'impianto. Intanto, per non creare ulteriore disagio a studenti, famiglie, insegnanti e non bloccare l'attività didattica, si è cercata un'altra collocazione per ovviare al problema. Già questa mattina gli studenti delle classi terze sono stati ospitati dall'Istituto Superiore Tommaso Fazzello, smistati tra il liceo classico e il liceo artistico ed hanno svolto attività di orientamento e continuità. I ragazzi delle quattro seconde sono stati spostati al liceo scientifico, mentre gli alunni delle prime questo pomeriggio faranno lezione alla sede centrale del Dante Lighieri in via Modigliani. Si spera dunque che entro questo pomeriggio i lavori all'impianto elettrico, ossia quelli più urgenti, vengano completati per permettere agli studenti di tornare tra i propri banchi di scuola alla scaturro. Il quadro elettrico intanto è stato già sostituito, ma come ci ha spiegato il dirigente Graffeo, occorrerà evitare che il problema si ripresenti nuovamente attraverso la pulizia delle grondaie, intervento che si spera venga effettuato al più presto. Grazie a tutti.